musica ok raga eccoci qua a provare la nostra squadra dopo ve la farò vedere praticamente ho paura vabbè questa qua è una squadra abbastanza scarsa però vabbè andremo a vedere quanto riusciamo a fare perché anche la nostra fa schifo ok vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi scendono in campo col 433 con due attaccati schierati in posizione più defilata rispetto al centro avanti vai carlos vela vela cross in mezzo subito di testa no gli orente no gli orente mazzarola incrocio bella lì azione interrotta guarda qua la squadra come gira eh vabbè eh vabbè bella lì dai dai i riflettori sono tutti puntati su di lui esattamente pia sulla carta sono tutti ottimi giocatori altrimenti non verrebbero acquistati ma una volta in campo non tutti sono ingrati figo gli orente è un gigante ma noi quello per cui sono stati presi chiaramente e gli faccio il mio personale in bocca al lupo per questa nuova avventura c'ho molto nuovo in campo oggi nel loro reparto di centro campo ok ma vabbè da chiamarla la gli orente di testa che cazzo non la prende che siano per il salto di qualità definitivo grande fiducia grandi speranze vedremo come se la caverà è stato annunciato come un grande colpo vedremo se sarà la altezza della stanza sicura come al tre cross per gli orente di testa no merda sono certo che lo dimostrerà finta subito occhio da ostwald che cazzo sia che cazzo sia bella lì bella lì bello sto tiro mai la rente di testa la spizza di testa cazzo sia bella lì bella lì vai andrerrerra su però eh che cazzo sta facendo questo qua Hanno spezzato bene la trama qui Vai, occhio lì Usti che fallo Ustrega Oddio, non è fallo Incredibile Perché? Bella Bello, vilo Prova il tricross Su secondo palo Di testa La manca Il pallone è uscito Sarà rimessa Possono ripartire dopo il recupero del pallone Si avvicina all'area Prova, porta Ma dai Spezzano senza difficoltà al tiki-taka avversario Per gioco Posizione questa Chidicata irregolare dall'assistente di guardia Cercano spazi No, merda Vai Mario Gaspar Tu padre No, eh Bellarina Merandissimo Peperina Peperina A disposizione A disposizione Tatatara Diormente può spizzarla di testa Per Ricarlo svela Allora non riesce a prenderla Ci sono metri a disposizione Guarda lui Carlo svela Può andare ancora a mettere il cross Carlo svela Vedo gli oretti di testa Dai Ma le palla tutte Usa il fisico Dai Dai Daccia no M***a cosa è bene Un controfeo Merda Pepperina Pepperina Graverina Dai Ok Ok Dioriente con questa cara di testa Sempre gli oretti Ha spizzato di magico di testa A cazzo di nessuno Spice stag Devo mettere il cross Lo posiziona bene Oddio Guerrera si lancia Perfetto Cargare Ci va nel secondo tempo Vai Glissi 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 Ancora dentro per Glissi Che viene fermato Per lo scambio Stargo Dante ancora una volta Anticipa Il difensore Carlo svela Carlos svela Vela 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 Fuori Vela Thomas Non si va anticipare Vela Vai Glissi Glissi Buttati No Glissi Glissi E sei già lì Arciu Nel cazzo si Grazie Grande uno contro uno Vi calda a Jesus Fa andare Da solo Vi calda a Jesus Fermalo Vai Metterle in mezzo Ma che cazzo di cross è Oggi Bajelli Osti È ovvio no Ma dai ma Porca puttana Ma che fallo è Ma baffanmi Andrea Herrera Può portarsela sulla fascia Vede il passaggio per Carlos Vera Vela ancora Herrera Vela Dio Dio Rente Ruba palla C'è una fascia tutta libera Però Giugial Giugial Il tiro di Giugial Che da merda Ma fa cagare al cazzo Ma è 77 Dio Rente Dai Minchia Guardalo Guardalo Molto attentati Mario Gaspar Ce ne può andare da solo Mario Gaspar Mario Gaspar Mario Gaspar Poi vede tutta la fascia libera Ancora Mario Gaspar Ottimo il tocco Finta Al tiro La parata Ma che cazzo è Ma dai ma Minchia Guardalo Dante Che potente di giocatore Signori Aslan Aslan Può vedere un 1-2 Sfai Stiger Poggi dietro Quello Rente Può vedere una scala per qua Porco dia Ancora 20 minuti Per l'esperanza Delle due squadre Trova bene la profondità Arslan Bellissimo Che azione splendida Bravissimo Dai Lorette Pure in FIFA Sei un bidone Minchia Guardalo Carlo Svela Carlo Svela Potremmo mettere il coro Da partito da solo Carlo Svela Viene fermato Nostro froccio Gliorente Gliorente 1-0 Fernando Gliorente Sì La mattina Bella No No Ha visto la fascia libera Guarda la palla Pagliorente Signori Gliorente La puoi darla Carlo Svela Carlo Svela L'hanno più fatto Sui difensori Carlo Svela Voglio entrare Carlo Svela Prova il tiro Carlo Svela Fermato Padroni di casa Che sono sotto Di una rete A pochi minuti Dal termine I tifosi Sembrano crederci ancora Hanno a disposizione Poco tempo Ma tutto può Ancora succedere Mancano otto minuti Al termine Della partita Hanno provato A sfondare Per vie centrali No merda Dai oh Oh Dai Sto matto Di Figa Che si faccia I pestelli Dai Porco L'area Mata Quanti amare Mangi Che c'è Pena adesso Fuori la palla E andare a calcolare Dai Raga Che l'87esima Mi è Palla Riconquistata Dall'avversaria Rimessa battuta Proprio male Di Orette Ha un'autostrada Di protezione Carmi si vedeva la mod Si fa gol Dai la parata Ma parla tutto sto guardo Troppo forte il mio bel ciuccione E dai La partita finisce qua Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi e al centro di like Da qui da Zema tutto Ci becchiamo al prossimo video Ciao